Buongiorno, sono Alessandro Solipaca, sono un ricercatore dell'Istat e sono il responsabile dell'area tematica sulla disabilità. Inizierei questo webinar introducendo alcuni concetti che introducono le presentazioni che ascolterete, in particolare mi vorrei soffermare sul concetto principale che è quello di inclusione e lavorativa delle persone con disabilità, perché questo è un concetto che si inquadra in un concetto molto più generale, che è quello dell'inclusione sociale delle persone con disabilità. Partirei citando la convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che il nostro Paese ha ratificato nel 2006, la quale esanzisce il diritto per le persone con gravi problemi di salute di poter realizzare le proprie ambizioni di vita su base di uguaglianza con il resto della popolazione. Si tratta di un'affermazione che perfeziona quella che è la definizione della classificazione internazionale sulla salute di disabilità, l'ICF, dà alla persona con disabilità. Infatti questa convenzione implementa praticamente il concetto di disabilità che è definito dalla classificazione come il risultato negativo dell'interazione tra condizioni di salute della persona e ambiente che lo circonda. Ambiente inteso in senso molto ampio, quindi un ambiente sia sociale ma anche un ambiente fisico. Quando la persona non riesce a realizzarsi in parità come il resto della popolazione, la convenzione identifica questa condizione come una condizione di disabilità. Quindi una situazione in cui non si è verificata, la società non è stata in grado di mettere nelle condizioni di queste persone di vivere come il resto della popolazione. Quindi l'inclusione lavorativa delle persone di disabilità è sicuramente un fattore determinante per l'obiettivo assai più generale che è quello dell'inclusione sociale. Entrambi questi obiettivi, c'è l'inclusione lavorativa e l'inclusione sociale, costituiscono degli obiettivi, dei traguardi da raggiungere. Senne nella sua teoria sul benessere chiama questi obiettivi, questi traguardi capacità, capabilità in inglese. Purtroppo solo alcuni di questi obiettivi si vengono raggiunti e Senne in questo caso gli definisce obiettivi, cioè funzionamenti, effettivamente obiettivi che arrivano poi a buon fine. Però ogni persona per realizzare le proprie aspirazioni può contare in generale sulle abilità personali, ma non solo, queste spese non bastano, ma ha bisogno, soprattutto nel caso delle persone con disabilità, di avere il supporto della società, dell'ambiente fisico che lo circonda, di ausilio. Quindi per questo motivo la Convenzione ONU, all'articolo 27, afferma che il diritto al lavoro deve essere cantito, deve essere cantito anche attraverso misure legislative, misure che finalizzate a favorire l'occupazione, ma non solo, anche a garantire le opportunità di cadiera, evitare delle discriminazioni, assicurare la formazione professionale, assicurare l'accesso fisico ai luoghi di lavoro e alle tecnologie. Quindi come vedete un tema molto, molto rilevante e molto spidante, diciamo. La normativa italiana che è rappresentata, diciamo, dalla legge principale, che è la legge 68 del 99, è sicuramente una legge che si pone all'avanguardia anche in Europa rispetto a questo tema, al tema dell'inclusione, perché supera il concetto risarcitorio del lavoro, cioè la persona con disabilità ha messo al lavoro per risarcirlo, diciamo, di un deficit che la natura gli ha dato. Però va molto oltre, quindi concepisce l'inseramento lavorativo come un'opportunità di autorealizzazione, uno strumento di inclusione. È una legge che è finalizzata alla valorizzazione dell'abilità delle persone e dell'indirittuazione di strumenti utili per l'inserimento personalizzato nel luogo di lavoro. Quindi, insomma, una legge molto, molto moderna che, la cui applicazione, diciamo, dovrebbe garantire questo diritto all'inclusione lavorativa e quindi, in generale, all'autodeterminazione delle persone con disabilità. Io avrei finito con questa introduzione e quindi chiederei alla dottoressa Sara Corradini il suo intervento. Sara Corradini è una ricercatrice dell'Istat, è una sociologa del lavoro, ha un dottorato in sociologia e ricerca sociale e si occupa prevalentemente di temi legati al mercato del lavoro e alla disabilità e all'inclusione scolastica. Quindi, lascerei a lei la parola e con l'accordo, diciamo, di restare entro i dieci minuti. Grazie. Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi invitato a questo evento. Io proverò a parlare della condizione dell'occupazionale delle persone con disabilità. Per prima cosa, come diceva il dottor Solipaga, è utile dire che il concetto appunto di inclusione sociale rappresenta uno dei cardini di quella che è appunto l'inclusione lavorativa, rappresenta uno di quello che è i cardini di un concetto più ampio che è quello dell'inclusione sociale delle persone con disabilità o, come parlerò in questo intervento, delle persone con limitazione. Se il concetto di inclusione lavorativa, infatti, rappresenta uno strumento essenziale per l'identità delle persone adulte nella società e la capacità di dare un'indipendenza economica e un ruolo all'interno della società, come anche diceva il dottor Solipaga, parlare di inclusione lavorativa delle persone con limitazioni o meglio delle persone con disabilità ha un aspetto ancora più complesso, perché il raggiungimento di alcune professionalità per le persone con limitazioni rappresenta anche un raggiungimento di capacità trasversali, quindi capacità di gestire relazioni, capacità di raggiungere dei livelli di autonomia. Quindi, il lavoro può essere considerato ancora di più con le persone con limitazioni un mezzo per superare delle difficoltà personali. Parlo di persone con limitazioni perché in questa presentazione noi faremo riferimento a dati provenienti dall'indagine di popolazione Aspetti della vita quotidiana, che secondo le regolamentazioni europee utilizza un quesito unico che viene definito GALI, e cioè Global Activity Limitation Indicator, con il quale si rileva come le persone a causa di più o meno gravi problemi di salute abbiano difficoltà nello svolgere alcune attività abituali o della vita quotidiana. Questo indicatore quindi ci permetterà in qualche modo di capire come le persone con limitazioni gravi si pongono nel mercato del lavoro, qual è la loro condizione occupazionale nello specifico, rispetto al resto della popolazione. Il primo elemento che possiamo osservare riguarda la presenza della percentuale degli occupati. Vedete che c'è un'enorme differenza tra gli occupati senza limitazioni, che da questo momento in poi vi dico che in grigio indicheremo sempre le persone che non hanno limitazioni nei grafici e in blu quelli che invece hanno limitazioni. Differenze grandi abbiamo un 59% di persone occupate senza limitazione e rispetto a una percentuale molto più bassa, come potete vedere, delle persone con limitazioni. Ma qui appare il primo discrimine di genere. Come potete vedere sono occupate soltanto il 29,4% delle donne con limitazioni contro il 34,4% dei maschi sempre con limitazioni. Quindi anche nella popolazione con disabilità in qualche modo si perpetua una discriminante di genere abbastanza forte. Un altro elemento interessante è legato sicuramente alle caratteristiche per titolo di studio. Il titolo di studio anche per le persone con limitazioni diventa un elemento molto importante per la presenza nel mercato del lavoro. Vedete che il 61% delle persone con limitazioni dotate di laurea o di un post laurea come un dottorato, il 61% sono occupate. E guardate come scende la porzione degli occupati allo scendere del titolo di studio. Questo ovviamente accade anche per le persone senza limitazione, ma quello che qui appare davvero interessante è osservare andando in un'analisi più attenta per classe d'età e cioè soffermando nello specifico per una classe d'età dei più giovani che ben un giovane su due della popolazione 15-29 anni è quello che viene definito a livello internazionale net, cioè ha una situazione in cui non studia, non partecipa più ad attività formazione, ma non è nemmeno impegnato in un'attività lavorativa. Quindi se già l'Italia ha un triste primato del circa il 20% di giovani, senza alcuna limitazione, in questa categoria definita net, arriviamo bene al 48%. Perché è interessante questo? Perché se il titolo di studio ha un peso e se i net sono tanti, oltre a quello che appare chiaro che le politiche di inclusione nel mercato del lavoro devono essere anticipate in qualche modo da politiche inclusive anche dal punto di vista dell'inclusione scolastica. Appare chiaro ancora una mancanza di un ponte reale tra l'istruzione e il lavoro. Faccio un accenno velozissimo a un dato molto interessante, una recentissima ricerca ambura alla quale noi come Istat abbiamo partecipato, ci dice che soltanto due giovani su cento sono iscritti all'università, solo due giovani su cento hanno una disabilità o sono DSA. Questo quindi vuol dire che se c'è una difficoltà nel raggiungimento di titoli di studi elevati, molto probabilmente sarà ancora più difficile la possibilità di entrare e di permanere nel mercato del lavoro. Passiamo ora ad un'analisi fatta esclusivamente per le persone che sono occupate. Abbiamo pensato di osservare anche il livello di soddisfazione. Vediamo che c'è una grande differenza anche qui tra le persone con limitazioni e senza limitazioni nella soddisfazione per il proprio lavoro. Se, caso un po' strano, non c'è un discrimine di genere per la soddisfazione nel proprio lavoro tra le persone con limitazioni maschi e femmine, si attestano entrambe all'80%, vediamo che ancora una volta sono le donne ad essere le meno soddisfatte anche nella popolazione con limitazioni. Infatti solo il 55,4% delle donne con limitazioni afferma di essere soddisfatte per il proprio lavoro. E anche se osserviamo la posizione nella professione, c'è una grande differenza. L'83% delle persone senza limitazioni tra dirigenti e imprenditori e liberi professionisti risultano soddisfatti contro solo il 52,5%. Un ultimo elemento che abbiamo pensato di osservare, perché ci sembra fortemente legato alla capacità di soddisfare appunto il bisogno di inclusione nella società, è stato quello dell'indipendenza abitativa. Tra i 18 e i 49 anni vivono ancora nella famiglia di origine il 38,7% delle persone senza limitazioni. Come sappiamo l'Italia rappresenta uno dei paesi che manifesta il maggiore ritardo da questo punto di vista, ma questa percentuale sale al 45,2% per le persone che invece hanno una limitazione. E anche qui, osservando le principali caratteristiche delle persone che sono uscite dalla famiglia di origine che quindi hanno potuto costruire un percorso di vita autonomo e quindi un affrancamento dalla famiglia di origine. Vediamo chiaramente il peso della condizione occupazionale. Il 50,5% delle persone con limitazioni che è uscito dalla famiglia di origine è occupato. Molto, molto più bassa invece è la percentuale di persone uscite dalla famiglia di origine che si trovano in una delle altre condizioni occupazionali. Io mi fermo qui e vi ringrazio molto dell'attenzione. Grazie Sara, sì, direi una domanda forse difficile da rispondere a una domanda come questa perché effettivamente abbiamo detto che la normativa è molto avanzata rispetto a quella che normalmente c'è negli altri paesi europei. però effettivamente dai dati che hai presentato si deduce che non c'è un riscontro tra la modernità della legge e poi gli effetti effettivamente sul livello occupazionale delle persone con disabilità. Quindi non so se sei in grado di dire se hai un'idea su perché c'è questa discrepanza, questa efficacia relativa della normativa vigente. Sicuramente il quadro delle politiche dell'inserimento lavorativo in Italia è molto all'avanguardia come è stato detto anche nell'introduzione dal dottor Solipaca. Abbiamo misure molto importanti come la legge 68 del 99 o ancora pensiamo anche alla legge 381 del 91 che disciplina le cooperative sociali che addirittura decide di inserire le cooperative di tipo B cioè quelle cooperative che hanno proprio come ruolo l'individuazione di strumenti per l'inserimento e il reinserimento di persone con disabilità non solo fisica ma anche sensorale e motoria. Le politiche adottate fino ad oggi hanno avuto però purtroppo un ruolo residuale fatto eccezione per l'inserimento nella pubblica amministrazione che rappresenta ancora il più grande bacino di inserimento per le persone con disabilità e con una concentrazione invece delle stesse molto residuale negli altri settori dell'economia. Quindi probabilmente ancora non c'è una grande maturità nella capacità di trovare un reale matching tra la domanda e l'offerta e bisogna appunto lavorare molto sia dal lato della cultura imprenditoriale e sia dal lato dell'attuazione reale di una normativa così all'avanguardia sul terreno sperimentale. Ok, grazie Sara, grazie di aver risposto diciamo a questa domanda un po' complicata effettivamente. Adesso passerei alla dottoressa Rita De Carli che è la responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità all'interno dell'ISTAT. La dottoressa De Carli diciamo lavora all'ISTAT da numerosi anni e si è occupata di diverse faccende anche tra loro differenti è passata dal confronto del reale dei prezzi e alle statistiche sulla salute e alle statistiche sul benessere eco e sostenibili. Quindi un bagaglio diciamo discreto di esperienza nella produzione delle statistiche nell'ISTAT. Quindi chiederei alla dottoressa De Carli diciamo di raccontarci qual è l'esperienza che sta vivendo nell'ambito appunto dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità all'ISTAT. Sì grazie Alessandro. È vero dal inizio della pandemia direi dal 2020 sono stata nominata responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità in istituto e dopo un percorso abbastanza lungo nell'attività di produzione quindi dentro questi processi. Questa figura istituzionale riprendendo la normativa fa riferimento proprio a un articolo preciso l'articolo 39 ter del decreto legislativo 165 del 2001 che definisce le funzioni del responsabile in tre punti dicendo cosa deve fare ma non esattamente come deve farlo e questo è secondo me un aspetto importante perché apre dei gradi di libertà all'interno del vincolo normativo apprezzare la possibilità di trasformare di fatto un obbligo in opportunità come stato detto. Come prima, come il primo compito è la cura dei rapporti con i centri per l'impiego. Cura, cura è una parola che viene dal latino e può dire osservazione minuziosa, attenta ma anche studio, ricerca, operativa in questo contesto. Non si tratta insomma di mirare a un'esecuzione di un compito quello di rinserimento lavorativo delle persone con disabilità come può essere, non so, lo sperimento delle liste ma creare un incentivo per mettere assieme le esigenze di ambole parti quelle dell'ente che deve assumere e dei lavoratori con disabilità che vorrebbero essere assunti e che non necessariamente abbiamo visto appartengono a profili operativi o poco qualificati. L'idea che sembra aver mosso il legislatore è proprio che forse in virtù della loro diversa abilità l'inserimento di questi lavoratori se fatto in maniera accurata potrebbe arrecare una spinta innovativa all'organizzazione dell'ente magari limitata nell'impulso ma direzionata in maniera prospettica è stato visto ad esempio che in alcuni casi in alcuni ragazzi ma in alcuni casi le persone con autismo possono risultare di fatto particolarmente capaci in alcune ambioni ad esempio informatica ma non solo proprio in virtù delle loro diversabilità mnemoniche, intuitive, operazionali oppure non so che la presenza dell'interprete LIS in un webinar impone al relatore un ritmo e delle modalità espositive più chiare o che la necessità di produrre slide accessibili ai colleghi ciechi di fatto le rende meno confuse più leggibili per tutti non soltanto per il reader che fa uso il collega cieco l'attenzione accurata al processo di inserimento significa che non può avvenire dunque automaticamente in maniera standardizzata quando si parla di soggetti con disabilità non è affatto detto ad esempio che una procedura concorsuale che ha dei tempi, delle modalità predefinite sia la più idonea a fare emergere delle abilità che probabilmente richiedono tempi e forme diverse per essere colte nelle loro potenzialità più che altro è per questo che ad esempio nella convenzione che abbiamo firmato quest'interno con il STILT del Lazio è stato previsto in via sperimentale un limitato numero di ingressi per tirocini extracurriculare siamo consapevoli che si tratta di un percorso non semplice che ci metterà ben presso di fronte ad altre criticità come ad esempio la necessità di prevedere un percorso di affiancamento in ingresso che richiede competenze specifiche non soltanto tecniche e operative e per le quali manca allo stato attuale un profilo professionale specifico con l'istituto ci manteniamo ottimisti e ci auguriamo di riuscire a saper fronteggiare volta per volta a queste e altre molte inevitabili difficoltà che questo lavoro comporta ma dovrei venire al secondo e al terzo punto che ha previsto la legge e che sono centrali e sono la promozione e il monitoraggio degli accorgimenti ragionevoli per garantire la piena uguaglianza con gli altri lavoratori così come definiti dall'articolo 9 della legge 99 del 2013 il criterio della ragionevolezza che definisce questo tipo di azioni sembra in primo luogo legato a vincoli di bilancio perché non possono comportare nuove o maggiori oneri di finanza pubblica o anche per il bilancio del singolo ente d'altra parte la loro individuazione sembra strettamente legata all'attività di monitoraggio nel senso che se si tratti di accorgimenti bisognerebbe quantomeno riuscire ad accorgersi e quindi ma anche all'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari di persone con disabilità abbiamo visto che la definizione è stata oggetto da numerose accezioni in ambito medico, sanitario, normativo previdenziale e statistico per cogliere quest'ultima la classificazione internazionale del funzionamento come abbiamo visto prima nell'introduzione pone lo stato di salute in relazione all'ambiente e l'interazione tra gli aspetti medici, sociali, ambientali e relazionali può dar luogo in effetti a situazioni che talvolta ostacolano ma altre volte facilitano l'incusione di ognuno nel proprio contesto di lavoro direi e estendere l'attenzione al contesto comporta il rapportarsi con una serie di vincoli operativi oltre che di bilancio che interessano ad esempio il metodo con cui può essere monitoraggio evidentemente non possono trovare soluzioni lavorando in maniera isolata ma impongono l'attivazione di rete di collaborazione trasversale è in questa direzione che ci siamo attivati fin dall'inizio con l'istituto cercando di fare rete prima di tutto al nostro interno di avviare rapporti di collaborazione tra colleghi con competenze professionali da diverse esperti della comunicazione tecnici del supporto informatico della logistica dell'accessibilità digitale giuristi, formatori tecnici della sicurezza della produzione statistica e così via ma anche con soggetti istituzionali diversi come il Google il Mobility Manager l'RSPP i responsabili delle protezioni dei dati abbiamo poi iniziato a rapportarci con altri soggetti anche al fuori i responsabili dei processi di inserimenti di altri enti simili al nostro in alcuni casi come il CNR o la Banca d'Italia ad esempio abbiamo iniziato ad avviare una collaborazione anche con la rete di CUB tornando a noi a livello operativo insomma ci siamo mossi inizialmente soprattutto nell'ambito della sensibilizzazione abbiamo guardato al contesto insomma abbiamo ad esempio redatto un opuscolo che parla di noi del processo di inclusione che vorremmo attuare o abbiamo avviato un ciclo di seminari tematici costruito una pagina internet e così via per il resto si è trattato per lo più di proporre soluzioni tecniche organizzative circostanziate piccole cose in realtà non cose eclatanti ma che per la loro valenza e generalizzabilità penso che abbiano il potere di innescare una serie di processi a catena il cui valore complessivo forse si farà più evidente nel medio nel lungo periodo nel medio lungo periodo mi riferisco ad esempio all'acquisto di un pacchetto di ore interpretato in list o l'assistenza tecnica in alcune procedure per il lavoro agile per la richiesta delle ferie la formazione online il supporto in alcune situazioni di tensione in ambito organizzativo e altre cose siamo consapevoli di essere appena all'inizio che la maggior parte del lavoro è ancora soltanto in fase di programmazione il piano di relazioni positive che abbiamo già redatto e che stiamo aggiornando in questo periodo è pieno di progetti diversi progetti per l'inserimento mirato come ho detto promozione delle azioni per l'accessibilità strutturale per l'accessibilità digitale del materiale della intra e per la redazione di documenti per la formazione l'inimiglia il piano di monitoraggio delle criticità esistenti vorrei soffermarmi su questo in particolare perché è uno dei progetti a cui tengo particolarmente pensiamo che appunto proprio proprio perché si tratta di accorgimenti sarebbe importante avviare il prima possibile un monitoraggio esteso a tutti i dipendenti per indagare per indagare gli accorgimenti ragionevoli che ciascun di loro potrebbe proporre in funzione del proprio stato di disabilità percepito o anche semplicemente degli ostacoli di cui ha fatto esperienza con riferimento ad alcune aree specifiche organizzativi tecnica strutturale digitale di mobilità corsi di formazione comunicazione partendo dunque ancora una volta da noi dal dal modo in cui ci percepiamo più o meno abili in determinati settori come in altri o soprattutto nel modo in cui percepiamo gli ostacoli potremmo iniziare diciamo anche partendo da noi a proporre azioni azioni che siano ragionevolmente attuabile che rispondano a dei vincoli vincoli di spesa vincoli di normativi ma anche vincoli operazionali direi grazie Rita hai sicuramente intrapreso un percorso molto difficile molto sfidante effettivamente è un anno so che ti occupi di queste di queste faccende la domanda è cosa cosa pensi di avere imparato da questa esperienza e cosa pensi di poter trasmettere a chi magari questa esperienza la sta per cominciare in qualche altra istituzione sì Alessandro è vero una riflessione su questo è importante penso di aver constatato che c'è bisogno sì di attenzione ma anche di tenacia di determinazione per inserirsi in processi già in essere già consolidati perché è complesso far quadrare interessi diversi mantenendo costanti vincoli e non soltanto come dicevo prima il budget esistono esigenze che spesso vanno in conflitto tra loro per riuscire a trovare ragionevolmente qualcosa che vada bene per tutti che favorisca appunto l'inserimento di abilità così differenti è necessario adottare talvolta una prospettiva di lungo periodo che travalica anche il singolo e guarda il gruppo al suo insieme e inserirsi nei processi vuol dire di fatto arrestiarsi accedere una parte ciascuno nell'ottica di far avanzare il gruppo nel suo insieme e per questo è necessario in primo luogo affrontare la ritrosia che accompagna a se stesso il cambiamento e forse è per questo che abbiamo che siamo strutturati fin da subito per rafforzarci come gruppo di lavoro al nostro interno e questo ci sta dando anche l'energia per continuare ad andare avanti con determinazione e direi anche coraggio verso obiettivi che ci interessano ci interessano perché pensiamo che riguardano tutti grazie Rita adesso passiamo al dottor Nunneri Andrea Nunneri che è il coordinatore del gruppo di lavoro sull'accessibilità digitale e responsabile del team informatico che si occupa dell'usabilità e l'accessibilità dei sistemi web quindi darei la parola ad Andrea assegnandoci i 10 pronto mi sentite? ok grazie Alessandro grazie a tutti è un piacere partecipare a questo evento come l'avete detto dalla breve introduzione che mi ha fatta Alessandro io sono un tecnologo mi occupo di tecnologia quindi diciamo il punto di vista che darò sulla sull'inserimento delle persone con disabilità all'interno dei processi lavorativi è molto centrato sulla componente tecnologica in particolare sul concetto di accessibilità digitale che cos'è l'accessibilità digitale cosa si intende con accessibilità digitale facciamo subito riferimento alla legge che ha fondato diciamo la disciplina in Italia che è la legge 4 del 2004 nota a tutti come legge stanca la quale afferma che la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ognuno ad accedere a tutte le fonti di informazioni e a tutti i servizi relativi a queste fonti di informazioni e inoltre sancisce il diritto di accesso da parte delle persone con disabilità in particolare i servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione quindi l'accessibilità digitale che è sempre definita all'interno della stessa legge non è altro che la capacità dei sistemi informatici di garantire proprio questo ossia che servizi e informazioni siano fruibili da tutti senza alcuna discriminazione ovviamente ovviamente insomma purtroppo non sempre i sistemi hanno questa capacità cioè di fare in modo che le proprie informazioni i propri servizi siano fruibili da tutti consideriamo ad esempio il web dove si trova la maggior parte delle informazioni e dei servizi in formato digitale ormai è il punto d'accesso principale a tutti i servizi di informazione in formato digitale i dati staticiti dicono nel 2019 poco meno del 30% delle persone con limitazioni gravi dichiaravano di utilizzare internet a fronte del 70% di quelle senza limitazioni quindi stiamo parlando di sebbene sia diciamo una una forchetta uno spettro che probabilmente è causato da più di un fattore però stiamo parlando di qualcosa che ci rivela un specifico divario digitale cioè quello fra cittadini che utilizzano sistemi che da quello che sembra sono stati progiottati tenendo conto delle loro capacità quindi della persona diciamo normodotata e tutti gli altri la forchetta si apre fra queste due categorie questo con l'affermarsi dell'idea di cittadinanza digitale che comporta la progressiva digitalizzazione dei servizi pubblici può aumentare l'impatto di questo divario divario cioè la cittadinanza digitale renderà sempre più necessario che i sistemi siano accessibili a tutti altrimenti implicitamente creerà un divario e non avrà assicurato il diritto che sancisce la legge in effetti questa preoccupazione emerge con chiarezza sia nel CAD cioè il codice dell'amministrazione digitale del 2005 come anche nella Carta della Cittadinanza Digitale del 2015 e da ultimo nel PNR il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che dedica una voce specifica di investimento proprio a inclusione dei cittadini e miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali proprio perché questa apertura del portafoglio dei servizi digitali della pubblica amministrazione porta con sé il problema di di non escludere nessuno in maniera molto più grave questo diciamo è un po' il contesto su cui ragionare il contesto generale su cui ragionare della salienza del concetto di accessibilità digitale quindi i sistemi devono essere in grado di erogare servizi senza discriminazione a tutti in particolar modo tecnicamente l'accessibilità digitale si concentra su quegli utenti che per interagire con i sistemi digitali con i siti web con le applicazioni anche mobile hanno bisogno di altri supporti in particolare di quella che normalmente chiamiamo tecnologia assistiva per fare un esempio la tecnologia assistiva diciamo preponderante anche insomma non statisticamente è quella di cui fanno uso i non vedenti ciechi ovvero dei cosiddetti lettori di schermo sono dei piccoli programmi che sono piccoli non solo piccoli alcuni sono molto complessi che risiedono sui dispositivi utilizzati dagli utenti che ne hanno bisogno e che permettono di interagire con contenuti testuali e visuali anche senza l'uso della vista perché fondamentalmente una voce interpreta i contenuti e li converti in audio i contenuti vengono letti lo scopo principale in questo caso di chi si occupa di accessibilità digitale è costruire i sistemi in modo che i contenuti testi immagini e quant'altro che fanno parte di questi sistemi digitali siano strutturati in maniera che i lettori di schermo ad esempio non abbiano problemi a leggerli e conferiscano tutta l'informazione necessaria all'utente per interpretare le informazioni e navigare in maniera semplice all'interno dell'applicazione del sito o quant'altro quindi questo è il quadro generale se scendiamo dal quadro generale al contesto specifico dell'ISTAT in cui io mi occupo appunto della componente tecnologica che riguarda l'accessibilità quindi l'accessibilità digitale vera e propria possiamo dire che l'approccio che stiamo prendendo a partire diciamo dal 2018 in cui c'è stata un po' una svolta è quello di considerare l'accessibilità digitale come processo questa affermazione che sembra un po' criptica in realtà è una cosa molto semplice vuol dire non ridurre l'accessibilità a una questione puramente tecnica ovvero c'è un problema di accessibilità su una particolare applicazione risolviamolo ok il problema è risolto chiuso in realtà considerarla come processo vuol dire intervenire sull'organizzazione del lavoro che sta dietro a quel punto finale che è l'applicazione il sito o l'app mobile per cercare di capire quali sono i punti di caduta dove effettivamente è successo qualcosa che ha portato a tirare fuori un prodotto che non assicura l'accessibilità e ovviamente intervenire sia organizzativamente che anche diciamo dal punto di vista conoscitivo tecnologico anche di di conoscenza di altro genere per cercare appunto di correggere il problema a monte non a valle mentre storicamente soprattutto negli anni passati ormai è un approccio che sta ha rivelato da molto tempo diciamo il suo lato fallimentare si è sempre diciamo ha avuto una una considerazione a posteriori ok viene creato il sistema se viene segnalato un problema allora intervengo per correggerlo sempre a posteriori questo cambiamento di paradigma invece parla dell'accessibilità fin dalla fase iniziale da quando si progetta il sistema informatico digitale che si voglia per fornire un servizio in Istat diciamo per cercare di affrontare la problematica con questa ottica abbiamo iniziato appunto fin dal 2018 prima di tutto con un'attività conoscitiva cioè abbiamo condotto un'indagine conoscitiva interna fatta di interviste o anche di osservazione on the job come si dice utilizzando l'inglese durante le attività di lavoro per intercettare per analizzare per capire quali erano le modalità di lavoro sia dei gruppi informatici di sviluppo dei sistemi digitali sia ad esempio dei responsabili della produzione della pubblicazione dei contenuti all'interno di questi sistemi per esempio principalmente di contenuti all'interno di siti web siti e portali web in base alle informazioni raccolte attraverso queste interviste e queste osservazioni sul campo diciamo così si è proceduti a fare un piano che prevedeva tutta una serie di azioni lungo tutta una gamma di direttive che vanno dal punto di vista diciamo della definizione delle procedure dal punto di vista strettamente tecnico informatico ma non soltanto rivolto prettamente agli informatici ma soprattutto dal punto di vista organizzativo e di formazione e di divulgazione per entrare un po' più nel dettaglio dal punto di vista diciamo procedurale il punto cardine l'azione cardine che abbiamo condotto ormai quasi un anno e mezzo due anni fa è quella di preparare retarne delle linee guida dell'accessibilità specifiche per l'istat che recepiscono comunque si ispirano a quelle pubblicate dall'agit dall'agenzia per l'italia digitale ma che adattano tutte le indicazioni e la parte normativa che lì è esplicitata alla realtà del nostro istituto è un documento abbastanza complesso soprattutto per il modo in cui è stato redatto che è rivolto a diversi soggetti e da delle indicazioni appunto per soggetto per campo di applicazione come per esempio gli informatici a chi si occupa di comunicazione a chi fa parte di redazioni web eccetera ed è mirato a dare indicazioni per l'attività di progettazione e realizzazione di siti web o di applicazioni mobili o di documenti digitali o anche per la predisposizione semplicemente di postazione di lavoro l'importanza di questo documento non è soltanto nel contenuto informativo e di diffusione di certi concetti e di linea guida ma è soprattutto dal punto di vista di chi l'ha redatto perché la redazione è stata il primo passo in questo nuovo approccio perché è stata condotta coinvolgendo diversi attori non soltanto informatici ma appunto persone che si occupano di comunicazione di diffusione di dati e quant'altro dal punto di vista invece strettamente tecnico tecnologico ci siamo dotati di un toolkit cioè di una cassetta degli attrezzi di strumenti standard che ci permettono di effettuare in maniera appunto standard una cosa importante che riguarda l'accessibilità digitale che sono i test di accessibilità ovvero le verifiche dei sistemi in modo appunto da controllare se l'accessibilità è rispettata soprattutto la normativa da questo punto di vista inoltre cosa molto importante ci siamo dotati di un sistema di monitoraggio continuo dello stato di accessibilità del nostro parco web cioè di tutti i siti che esponiamo all'esterno invece dal punto di vista organizzativo diciamo l'intervento che riteniamo molto importante perché è strutturale è stato quello di modificare il modello dei processi di sviluppo dei sistemi informatici che abbiamo adottato all'interno della direzione informatica questo modello praticamente permette di strutturare in maniera scusa Andrea se ti interrompo guarda hai un minuto stiamo sporando quindi chiudi cerca di chiudere il minuto ok d'accordo e chiudo appunto con questa cosa cioè il fatto che interveniamo a livello strutturale sul modo in cui sono organizzati i processi di sviluppo nelle varie fasi progettazione sviluppo test eccetera in modo che l'accessibilità come dicevo prima sia considerata in maniera strutturale fin dall'inizio fin dalla fase di progettazione chiudo dicendo che una cosa importante di tutta questa attività che è rivolta ovviamente a come mira principale come obiettivo principale quello di assicurare l'accessibilità per i sistemi rivolti verso la cittadinanza quindi verso l'utenza esterna all'istituto la cosa importante è che comunque tutte queste attività hanno di fatto una rigatuta positiva e avranno sempre di più una rigatuta positiva sull'accessibilità e sull'inclusione all'interno dell'istituto rivolta ai colleghi con disabilità all'interno dell'istituto e questo è molto importante ovviamente si basa fondamentalmente sulla sinergia con il disability manager con Rita che mi ha preceduto nella presentazione comunque il suo apporto è sicuramente molto più fondamentale su questo lato che non il nostro però anche noi abbiamo un minimo di rigatuta anche su questo su questo contesto interno scusate se ci ho messo più del previsto ringrazio molto grazie Andrea si velocemente la domanda la domanda che ti congo è questa diciamo la tua esperienza fino adesso che hai avuto qual è l'attività legata all'accessibilità digitale che insomma ti ritieni più efficace della disensibilizzazione a questo tema allora per ripetere un po' il concetto che uno dei concetti che ho esposto l'accessibilità non è solo un problema tecnico noi informatici poi tendiamo a ridurla a un problema puramente tecnico una cosa molto importante per capirla è il lato soggettivo cioè cercare di capire effettivamente che tipo di esperienza ha un disabile di fronte a un sistema informatico sia che funzioni bene che sia ben strutturato per garantire l'accessibilità ma soprattutto se non è costruito bene in ottica di accessibilità in questo senso una cosa fondamentale che personalmente diciamo ha cambiato il mio modo di vedere tutta la tutta la tematica è quella di partecipare a quelli che tecnicamente appunto si chiamano test soggettivi di accessibilità ovvero delle verifiche dei sistemi digitali fatti attraverso l'utilizzo della tecnologia assistiva che utilizzano le varie categorie di disabili in particolar modo è molto è rivelatorio al massimo l'utilizzo dei lettori di schermo che fanno i non vedenti ciechi ovvero questi sistemi che interpretano i sistemi informatici e li trasformano in audio perché lì veramente si tocca con mano anche se in maniera indiretta ovviamente il livello di disorientamento di cui fa esperienza ad esempio un non vedente quando si trova di fronte a un sito non strutturato per l'accessibilità digitale grazie grazie Andrea io direi che diciamo quei tempi siamo parecchio in ritardo quindi vado direttamente alle conclusioni che saranno brevissime nel senso che da quello che abbiamo visto diciamo il tema dell'inclusione sociale è un tema molto sfidante per tutta la società la relazione di Sara Coradini ha messo in luce che c'è ancora molta strada da fare perché c'è molta differenza tra il livello di occupazione il livello di soddisfazione delle persone con disabilità comparate a quello che osserviamo nel resto della popolazione quindi c'è ancora molto da fare nonostante si abbia una legge all'avanguardia diciamo su questo tema l'altro aspetto che invece è molto più positivo è il fatto che l'Istat si sta impegnando molto diciamo per il processo di inclusione nell'istituto di queste persone e soprattutto tutti gli sforzi che si stanno facendo e che si faranno per rendere diciamo questo obiettivo perseguibile effettivamente per esempio quello che ci ha raccontato Andrea non è riguardo al fatto che riguarda l'accessibilità digitale effettiva perché una persona per lavorare deve avere la piena accessibilità degli ambienti ma anche dell'aspetto legato ovviamente all'accessibilità digitale quindi insomma molta stata da fare l'Istat mi sembra ben avviata e a questo punto concluderei ringraziando la dottessa Coradini la dottessa Tecale il dottor Nunari per gli interventi che ci hanno offerto oggi arrivederci a tutti grazie a tutti